In questo speciale RMK Notizie ci occupiamo di prevenzione dentale. Lo facciamo oggi presso il centro medico Bellanca e siamo qui con l'amministratore del centro, Giuseppe Bellanca. Si è da poco conclusa una campagna di prevenzione dedicata ai Over 50, una campagna di prevenzione che ha ottenuto un grandissimo successo e ottenuto anche una grandissima adesione. Questo sta a significare che oggi prevenire è molto importante e i pazienti, il pubblico esterno accetta questo tipo di campagne. Una campagna di prevenzione che è nata indubbiamente con l'obiettivo di curare e intanto prevenire, accertare lo stato di salute dei denti e dare quei consigli utili per proseguire dopo aver fatto le cure o anche una pulizia dentale, proseguire a mantenere i denti sempre più belli. Come vi dicevo sono in compagnia di Giuseppe Bellanca che è l'amministratore del centro. Buongiorno, grazie per averci ospitati. Allora, una campagna che è stata un gran successo questa campagna dentale. Sì, è stato un gran successo e noi siamo davvero contenti dei risultati ottenuti. Questa è un'iniziativa finalizzata ad incentivare i pazienti, i cittadini, alla cura dentale, alla cura dei propri denti. L'abbiamo dedicata a quei cittadini con un'età superiore ai 50 anni. Nello specifico perché è stata scelta questa fascia di età? Nello specifico è stata scelta questa fascia di età per un motivo semplicissimo. Con dati alla mano, il 30% dei cittadini a livello nazionale con una fascia di età tra i 40 e i 75 anni hanno ancora i loro denti nella propria bocca. Invece il restante 70% ha seri problemi di dentulia, sia parziale che totale. Ma il dato ancora più significativo è che il 50% di essi purtroppo non pone rimedio a risolvere il problema. Quindi queste campagne, come dicevamo, nasce con l'obiettivo di prevenire ma anche fare in modo che chi ha i propri denti li mantenga bene? Assolutamente sì. Noi abbiamo confermato questi dati facendo delle visite molto accurate con il dottore responsabile di questa campagna, che è stato il dottore Fuschino, che ha fatto veramente uno sforzo non indifferente facendo tante visite e consigliando ai pazienti, ognuno di loro ovviamente, un piano terapeutico opportuno come ad esempio possa essere la conservativa, quindi la cura dei propri denti o la riabilitazione protesica parziale o totale o l'implantologia o anche la paradontologia per quei pazienti che hanno problemi gengivali. Ecco, quindi non soltanto diciamo la cura della carie, l'esportazione del tartaro, ma soprattutto curare la paradontite che poi è quella che provoca poi i veri disturbi alla bocca. Sì, diciamo è aperto a tutte le problematiche della bocca, ovviamente anche la paradontite, che anche per questa branca ci sono dei problemi non indifferenti, credo che il 70% della popolazione soffre di problemi seri di paradontite. E qua noi siamo molto organizzati perché abbiamo degli specialisti che si occupano appunto di paradontite. Ecco, come dicevamo quindi una campagna di prevenzione che si è rivolta a una fascia di età a cui hanno aderito non soltanto i cittadini di Sciacca ma anche di altre zone della provincia e anche fuori provincia. Una situazione è quella che riguarda la cura dei denti che molto spesso viene trascurata, ultimamente, soprattutto anche per una questione economica, determinate situazioni e ristrettezze portano proprio a trascurare i propri denti. E il centro medico Bellanca viene incontro a questo tipo di problemi e si apre appunto alle campagne di prevenzione gratuite. Bellanca, quindi diciamo che questo ha aiutato moltissimo la gente anche a superare questo, diciamo, handicap, cioè nel senso dice io soldi non ne ho e quindi come vado, poi mi dicono che si devono curare e io non lo posso fare. Quindi in che maniera lo studio Bellanca viene incontro a queste esigenze? Dice benissimo, poi in questo periodo storico così importante da un punto di vista socio-economico ancora di più le persone, i pazienti, rinunciano a curarsi. E questo è un trend che sta addirittura peggiorando negli ultimi dieci anni. Noi appunto per questo e dal primo giorno che abbiamo aperto la nostra attività, il centro medico Bellanca ha sempre promosso, e voi ne siete testimoni, ha sempre promosso delle campagne di sensibilizzazione e prevenzione a titolo gratuito, sia per la medicina che per l'odontoiatria. In questo caso abbiamo fatto questa campagna di prevenzione dedicata all'odontoiatria che come lei ha ben detto prima ha riscosso un successo veramente non indifferente. E noi per premiare i pazienti che hanno aderito abbiamo proposto a loro ovviamente dei piani di trattamento, piani terapeutici personalizzati, ma anche venendo incontro sotto l'aspetto economico che oggi non guasta, personalizzando il pagamento con un costo molto agevolato e con un pagamento anche personalizzato e rateizzato. Quindi visto il successo di questa campagna ma anche di altre campagne, ecco nello specifico apriamo la parentesi, vogliamo dire quali sono state fino adesso le campagne di prevenzione che abbiamo messo in atto? Ecco, mi dico questo noi perché anche noi come emittente le abbiamo messe in onda. Sono state tantissime, per la medicina ne facciamo una ogni mese, insomma, avvenne varie cose, gastroenterologia, cardiologia, endocrinologia che abbiamo avuto un successo non indifferente. Un'altra campagna altrettanto importante e che ci ha dato grosse soddisfazioni è stata anche la prevenzione ai tumori al seno. Abbiamo fatto degli esami completi con l'ecografia bilaterale che non è una cosa da poco, abbiamo fatto veramente centinaia di screening gratuiti. E poi, che io ricordi, ci sono determinate giornate l'anno che dedicate proprio anche alla prevenzione nell'uomo di determinate malattie, la prostata, quindi ci sono determinate giornate di calendario che sono dedicate proprio alla giornata mondiale di prevenzione e voi aderite in queste giornate. Noi aderiamo esattamente a queste giornate, come da sempre, con risultati veramente importanti. Noi siamo orgogliosi di fare questo perché è anche importante fare della sanità sociale. Noi siamo stati sempre molto attenti a questo, lo facciamo veramente con impegno massimo. Devo dire che le persone hanno sempre apprezzato perché le richieste sono state numerose, ma hanno apprezzato ringraziando i professionisti che si sono spesi in questo e anche ovviamente noi che abbiamo fatto di tutto per rendere fruibile questa possibilità ai pazienti. Quindi possiamo dire a chi non ha fatto in tempo diciamo a rientrare nel periodo dedicato alla prevenzione dentale che prossimamente, diciamo, possono ritrovarsi in questa occasione nuovamente. Sicuramente sì perché, visto il risultato importante, le richieste numerosissime che abbiamo avuto, ma che tuttora ancora oggi arrivano, abbiamo pensato di riproporla il prossimo mese di novembre e addirittura abbiamo studiato di estenderla a quei pazienti con un'età questa volta inferiore ai 50 anni. crediamo, anzi, sicuramente proporremo l'ortodonzia con l'equipe del dottore Massimo Galletti e della dottoressa Claudia Parrino. L'ortodonzia perché negli ultimi anni le richieste di trattamenti ortodontici sono aumentati moltissimo appunto per i problemi all'articolazione temporomandibolare, per problemi funzionali e di conseguenza anche estetici. Allora, al di là della frase che prevenire è meglio che curare, sottoporsi periodicamente, in questo caso, a una visita dentale, nel caso specifico di questa prevenzione, indubbiamente è importante per la cura dei propri denti e quindi anche per la cura estetica, diciamo, nell'apparire, ma è importante perché dipende la salute anche del proprio corpo e quindi prevenire è meglio che curare, poi approfittare anche delle campagne di prevenzione è un non guasto a bevande, è giusto? Assolutamente sì, condivido ed è un suggerimento che noi continuiamo quotidianamente a dare a tutti i pazienti. Grazie. Non ci resta altro che rinnovare l'appuntamento alle prossime campagne di prevenzione curate dal Centro Medico Bellanca. Grazie.